Ciao ragazzi, oggi sono in maneggio e lo so che c'è un sacco di rumore, ma vi farò vedere come metto a posto Cool Boy dopo aver saltato. Di solito vi faccio anche una doccia veloce, però oggi fa freddo, perciò ho deciso di non fargliela. Vi faccio vedere tutti i gel e cose che gli metto addosso dopo che abbiamo saltato. Lui ha questo Steinbox, con la coperta sopra gli ho gettolto tutta la sella e le cose e gli ho dato una bruscata addosso. E ho portato il tendonil e l'arnica e poi ho anche portato la mia Gloomy Kit, così lo posso pulire per bene. Grazie. La prima cosa che faccio è prendere un netta piedi e gli scarico gli zoccoli. Dopo aver pulito gli zoccoli prendo questo grasso e glielo metto dappertutto. Gli metto i copri-corona. Finali metto il gel e l'arnica sulla schiena. Cioè il gel sui tendini e l'arnica sulla schiena. Proti e gli redori. Allora ragazzi, io vi lascio con delle clip di io e Cool Boy che saltiamo. Questo giorno ero super contento perché abbiamo fatto la nostra prima doppia gabbia, anche la mia prima doppia gabbia. E l'ultimo salto è arrivato a un metro e trenta e l'ho saltato super bene, ero molto contenta. Se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere giù nei commenti, lasciate un pollicione in su e iscrivetevi al canale. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!